ciao sono francesca ciao sono valentina abito a milano e ho vent'anni ho vent'anni e oggi mi trovo qui al primo giorno di ecma la prima volta in vita tua alla ecma e che cosa ti sembra la ecma ciao sono alessia e anche quest'anno sono a ecma passate a trovarci e cosa ti aspetti per quest'anno meglio dell'anno scorso e avrai tanti tanti ragazzi intorno a te patate e esserciati buona lissa sei incorniciata ciao sono maddalena ferroni miss parma 2023 io sono laureato in logopedia 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 e istituzione di cittadini teatrale ah si fammi allora fammi una citazione una citazione mi chiamano in realtà presentare come presentatrice conduttrice quindi si potrebbe presentare qualcosa presenta lei ma presentatrice quest'anno prima anno è il 2023 per me sono molto emozionata il tuo primo anno ma guarda che lei l'anno scorso aveva solo uomini dietro anche lei vogliamo scommettere sì ma lei è una maestra è bravissima è solo da imparare ciao ciao come ti chiami roberta sei la prima volta che a lake ma è il quarto anno quindi sei esperta niente ti può scappare tutto sotto controllo ok ottimo grazie grazie sei in alto parlo italiano come mai così alto sei? da tutti? tra i vecchi della mia macchina eh? come ti chiami? Catarina Catarina come ti chiami? mi chiamo Sabina no come ti chiami? pablo pablo non è la prima volta che sei qui mi sembra di già averti visto mi sembra di già averti visto come? sono un dinosauro ah ho capito ho capito com? mi sembra di già il corso mi sembra di già Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.